Ciao a tutti amici, il 2020 sta giungendo al termine, è finito novembre e inizierà l'ultimo mese, il dodicesimo ovvero dicembre e ho in mente per voi, come vi ho anticipato, una sorpresa fantastica che richiederà molto del mio impegno ma soprattutto del vostro nel sostenermi e condividere e supportare in generale i miei video. Ho deciso di fare anch'io, come tanti altri miei colleghi youtubers, un palinsesto dell'avvento, quindi ci sarà, eccezionalmente solo per il mese di dicembre, un video al giorno dall'1 al 25 di dicembre. Saranno video che richiameranno sia i format che ho portato appunto durante tutto quest'anno del 2020, quindi ci saranno i consueti Danza con Joy, i consueti Cartoon Joy, Fux Review ce ne sarà una sola, come ho intenzione di fare nel palinsesto del 2021, in più ci saranno tutti questi nuovi format che vorrei doporvi per il prossimo anno. Andremo ad esplorare non il mondo libresco e basta come è stato in passato, ma altri ambiti che comunque mi appassionano. Questo perché questo canale non vuole essere più una rappresentazione solo della mia passione per i libri, ma di giù a 360 gradi. Vi parlerò e vi mostrerò tutte le mie varie passioni che spaziano appunto da libri, danza, cartoni animati, ma anche per esempio cucina, disegno, cose divertenti. Insomma, vedrete un sacco di cose nuove, alcune ve le ho già anticipate nei sondaggi fatti nel mese di agosto su Instagram, altre invece saranno delle vere e proprie novità. Il vostro compito sarà quello di farmi capire attraverso i vostri like e le vostre condivisioni e anche i vostri commenti, chiaramente, quali sono i format che vi interesserebbe di più vedere approfonditi nel 2021. Ho intenzione di questo canale, a differenza degli anni passati, dato che oramai ne sono passati quattro di anni e entriamo poi nel quinto anno di produzione, mi piacerebbe che di anno in anno il canale si evolvesse insieme a me come persona. Appunto, come dicevo prima, non andando ad analizzare solo una delle mie passioni, ma cercando di rappresentarmi appieno. Quindi può darsi che ci siano nel corso degli anni diverse modifiche, ma tutto questo sarà fatto, oltre che al mio gusto personale, sarà dato da voi, da voi fan che mi supportate e mi seguite, tra l'altro quest'anno siete cresciuti tantissimo, quindi di questo vi ringrazio veramente di cuore. Insomma, noi ci vediamo da domani, appunto, con un video al giorno, una novità al giorno, fino al 25 di dicembre. A fine mese, con l'arrivare di Capodanno, ci sarà l'appuntamento il 30 di dicembre con il Book Award, quindi andremo a rivedere un po' tutte le mie letture durante l'anno, scopriremo quanti libri ho letto durante l'anno, quali sono i libri più lunghi, quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che mi sono piaciuti di me e via dicendo. Invece, il 31 dicembre, segnatevi questa data, andrò a presentare appunto il nuovo palinsesto del 2021. Non vedo l'ora, sono eccitatissima all'idea di iniziare questo mese di dicembre, mi raccomando, seguitemi tutti i giorni, ogni giorno esce un video nuovo alle ore 14 su questo canale. Pammate! Un bacione e ci vediamo domani con il primo video di dicembre. Ciao a tutti! Ciao a tutti!